La squadra mobile di Vibo Valencia ha effettuato serrati controlli nei confronti degli esercizi situati a Vibo Valencia, mirati al controllo dei luoghi dove viene praticato il gioco e le scommesse, spesso strumento utilizzato dalla criminalità organizzata per il riciclaggio del denaro sporco e per l'accumulo di ricchezze illecite. Nel corso dei controlli l'attenzione veniva concentrata su un esercizio pubblico dove già erano stati identificati molteplici soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di armi, reati contro la persona, reati contro il patrimonio, nonché già destinatari di misure di prevenzione personali. Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore della provincia di Vibo Valencia per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ha emesso un provvedimento di chiusura per 15 giorni dell'esercizio commerciale, sospendendone la licenza e ordinandone l'immediata chiusura.